ciao sono emiliano galli dell'agenzia mobile aere maxi dal case oggi mi trovo in zona balduina in via ugo de carri il 633 e quello che ti sto proponendo è un terzo piano con tripla esposizione e l'appartamento sole e l'abbiamo creato in questo modo perché l'appartamento a tre esposizioni come dicevo poco fa nord che vedremo dopo con la cucina e servizi est verso via ugo de carri e sud dove siamo adesso appena si entra come avete visto lì c'è un ingresso chiaramente la struttura della casa è la classica casa degli anni 60 quindi le morature sono rimaste quelle sicuramente andando in un'ottica un pochino più moderna e vista la grandezza degli degli ambienti e la presenza di tramezzature si può senza dubbio modificare e ottimizzare gli spazi comunque qui c'è un soggiorno doppio in un bel salone circa 35 metri con l'accesso al primo dei quattro balconi questo balcone a faccia lateralmente eccolo qui e lì c'è il gioco dei carri e tornando verso l'ingresso eccoci qui tutto questo corridoio dove in fondo ci sono le tre camere e il bagno padronale mentre da questo lato c'è la zona servizi con la cucina che è arredata su entrambi i lati a un piccolo balconcino poi c'è questa stanza in mezzo che vedete con la luce accesa una stanza un po' gioia attualmente non ve la apro perché è piena di cose però può essere o un modo per ingrandire la cucina o per fare un terzo bagno o per ingrandire questo bagno qui che attualmente è il secondo bagno presente nella casa percorriamo il corridoio qui c'è un bell'armadio a muro molto profondo e a tutta altezza in fondo le tre camere questa la prima matrimoniale eccola qui spaziosa attualmente era utilizzata come studio che ha un suo balcone e affacciamo sul viago di carolis per rendersi conto come dicevo prima al 133 è quasi l'incrocio con la da meno chiesa entriamo dentro seconda delle tre camere che è la più piccolina e quella centrale ma comunque entra comodamente vedete una poltrona un letto una libreria camera patronale molto comoda e anch'essa con barcone riservato e infine il bagno quindi ricapitolando mentre faccio vedere il bagno e poi ritorniamo nella sala ci troviamo in via vode carolis 633 appartamento sole terzo piano con ascensore triple esposizione nord est e sud ingresso salone doppio cucina abitabile tre camere da letto due bagni più stanza jolly che può essere uno studio o comunque lavanderia e quant'altro se sei interessato a una casa in questa zona ti consiglio di venirla a vedere perché puoi personalizzarla in base ai tuoi gusti per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi a 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